ciao a tutti ragazzi sono gabilo oggi siamo in un nuovo mondo di minecraft ok prendiamo il nuovo di questo c'è sì c'ho la casa sottoterra ma sottoterra osservate la farm di di rotaie e tapeti ovviamente c'ho questo metodo c'è voglia ci sono io per così non cadano a terra ce li devo riempire io poi ovviamente ci cancelliamo questo se questa è la farm di ferro cioè aspettate un che ve la faccio vedere sia qua che qua c'è sì questo c'è uno strato e si va fuori c'è uno strato e si va fuori ci dovrei coprire c'è questo però c'è tanto non c'è si vede i villici c'è stanno qua ve li faccio vedere c'è qua c'è qua c'è sì certo c'è ci dovrei mettere più villici c'è più villager c'è aspetta un attimo c'è a po ci mettiamo tanto impossibile che riescono a saltare la quadra cioè impossibile che riescono a saltare poi ci mettiamo altri tre villici veramente c'è la terra c'è la terra sottoterra a me non tanto piace c'è sì è un gioco di parole c'è un po brutto però as qua impossibile farci c'è sto coso qua oppure cioè aspettate un attimo che mo ci faccio a cosa bella ah 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 ecco guardia non qui qui poi c'è poi c'è qua che ci potrei poveretti però cioè vengono sempre usati questi ovviamente la sabbia se magari a cristo ti togli cioè scusa permetti eh ma io due e tre ma avete subito danno fotte cazzi voglio apriamo la porta la chiudiamo è qua c'è visto che è brutto c'è visto c'è che c'è poi ci sistemo da fuori tranquillo c'è 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 sto c'è sottoterra e devo c'è c'è vedere la terra al posto di questi materiali c'è che si vedono sottoterra c'è ma aspettate ovviamente buttiamo si semi c'è piove dentro casa guardate c'è sta piovendo dentro casa c'è stupendo c'è chiami c'è io chiudo c'è perché c'è questi due c'è al posto c'è di parlare gridano c'è chiami c'è 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 c'ha la voce che c'ha c'è e quindi c'è c'è chiami c'è quella gridano c'è mo capisci perché io c'è cazzo chiudo c'è 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 cambia c'è 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 poi se questa c'è la farm va beh qua l'ossidiana perché non si sposta qua si scende e come potete vedere la farm funziona poi qua ci voglio fare tanti recinti per tante per tante pecore con la lana colorata con le lane colorate ovviamente sto cazzo qua c'è l'acqua ovviamente cioè non che vado dalla parte dove non trovo acqua non trovo niente c'è l'acqua ci facciamo che facciamo c'è questa se la riconoscete la franace automatica con pieno di combustibile legno c'è carbonella c'è carbone c'è verga di blades e blocco di carbone anche qua vabbè è qua c'è c'è niente c'è niente c'è qua questo c'è questo c'è che va all'infinito vabbè c'è niente dove ce lo facciamo da da questa parte speriamo speriamo bene c'è da qua c'è il mare da da qua pure cioè cioè speriamo che da questa parte c'è posso andare all'infinito poi ci faccio un recinto con i polli il carbone me lo prendo in creativa c'è c'è niente se questo episodio vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi condividete e noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi iscrivetevi non mi l'ho già adesso ma l'orilic ci vediamo